Ciao. Stasera c'è una diretta molto importante di Let's Spend Tonight Together. Il titolo è Libertà e unirsi. Abbiamo passato un periodo tremendo dal 2020 in poi, soprattutto i primi due anni. Chiusi in casa, forzatamente, non si poteva andare in certi luoghi se non avevi un determinato lasciapassare verde. Parecchi si sono sentiti ricattati, alcuni l'hanno fatto con entusiasmo, ma altri ricattati e quindi hanno dovuto accettare delle imposizioni sanitarie. Mentre c'era tutta un'area di persone che rivendicavano la libertà che dà la Costituzione di scegliere come curarsi. È stato un periodo importante per il regime. Perché? Perché ha applicato quello che dicevano i romani, divide e timpera, cioè dividili e comandali. Siamo stati divisi, contrapposti l'uni agli altri. Prima quelli che erano considerati dissidenti erano attaccati da quelli che seguivano la scienza. Dopodiché, ultimamente, visto il risultato che ci sono stati, su cui non entro in merito, quelli che sono stati vessati a loro volta attaccano quelli che li vessavano prima, facendo un errore clamoroso. Perché? Perché continuano a perpetrare il divide e timpera. In tutto questo periodo io sono sempre stato, fin dall'inizio, fin da quando l'ho incontrato, amico di Cateno De Luca. Ogni tanto trovavo qualcuno che diceva come fai tu a essere amico di questo che nel periodo brutto spingeva le persone a dover stare in casa, eccetera, eccetera. In realtà, in realtà, lui ne abbiamo parlato, non abbiamo mai parlato, tranne una volta lui mi ha accennato, sai, io ero costretto a seguire le leggi. Di recente, Cateno De Luca ha fatto quello che nelle elezioni precedenti nessuno ha fatto. Nelle elezioni precedenti i dissidenti sono presentati tutti i divisi, non hanno ottenuto niente. Addirittura la maggior parte dei dissidenti ha deciso di non andare a votare, dicendo saremo in tanti e saremo il primo partito. In effetti, alla fine, io ero contrario, ma anch'io in passato non avevo votato tanti anni fa, ma di recente io ad esempio ho appoggiato Vita di Sara Cunial. Sara Cunial è stata l'unica che si è battuta in Parlamento contro questa imposizione. Addirittura le impedivano di andare in Parlamento e lei stava fuori. Bene, cosa è successo? Si sono tutti divisi nelle precedenti elezioni, non hanno ottenuto niente. Ognuno con il suo piccolo orto, e soprattutto c'è la sindrome dei reduci, ultimamente si attaccano tra di loro. Quelli che erano dissidenti, che in teoria dovevano assoluti, si attaccano tra di loro. Fra l'altro molti hanno detto che non andiamo a votare, come dicevo prima, no? E alla fine io dicevo, no, ma non serve, perché anche se va a votare il 5% della popolazione, chi viene eletto governerà comunque. Difatti, dopo le elezioni, sentivo alcuni dicendo, siamo il primo partito, quelli che non sono andati a votare il primo partito, ok? Io ho detto, ok, quali leggi fate? In che senso? Sì, siete il primo partito, che leggi fate? Come cambiate l'Italia? Governano gli altri, quelli che sono in minoranza, quelli che sono andati a votare hanno votato per quei partiti, quindi a cosa è servito l'astenzione? A niente. Recentemente Cateno De Luca ha fatto un'operazione incredibile che non era riuscita nessuno, ha messo insieme tutti i dissidenti, lui partendo da un partito che aveva creato a sud chiama nord, in realtà ha creato una lista per l'Europa che si chiama Libertà e ha unito varie persone. Io sono stato stupito all'inizio che Sara Cunial avesse accettato, io l'ho consigliata di farlo, ma che avesse accettato e a questo punto sono arrivati i video, mi arrivano tutti i video di quello che diceva Cateno De Luca nel tempo della pandemichia, di tutte queste cose che come fa Sara Cunial si è venduta per una poltrona. Bene, Cateno De Luca ha fatto una foto con Sara, la presentazione, dicendo in pratica la frase, io posso anche non essere d'accordo con te, ma mi batterò fino alla morte perché tu possa esprimere le tue idee. In realtà poi alla fine, quando c'è stata la presentazione a Roma un paio di giorni fa, l'intervento di Cateno De Luca quando ha chiamato sul palco Sara Cunial è stato esemplare, eccolo. abbiamo avuto anche l'adesione di vita. Sara, non l'ho vista Sara, forse se la stanno dov'è? Sara! Ciao, vieni qua un attimo, vieni qua Sara, vieni qua! Anche perché... vieni qua! Lunedì, lunedì saremo da Red Ronny! Eh sì! vita! Lunedì parleremo di quelle che sono state posizioni che sono state assunte nella fase della pandemia. Il diavolo e l'acqua santa o l'acqua santa e il diavolo. Beh, avremo modo di affrontare questo tema perché guardate, abbiamo vissuto una fase surreale dove oggi ci rimane l'amarezza che anche noi uomini dello Stato ci siamo visti strumentalizzati in qualcosa che andava sopra le nostre teste e sarà un momento che affronteremo con grande serenità ma io ho avuto modo già di dirlo perché è ovvio che tutto quello che sta emergendo e quello che invece non si fa di tutto per non far emergere ma quella punta dell'iceberg che ormai ha toccato la Presidente della Commissione Europea purtroppo rischia di mettere in luce qualcosa di abberrante, di abberrante dove ognuno di noi si è trovato quasi a fare una guerra non sapendo che nemici erano altri. Catena De Luca quindi ha ammesso anche lui di essere stato ingannato, ingannato da un sistema, da un sistema che oggi vede la Fonda Lair indagata per i rapporti con questo colosso americano della farmacologia. Bene, io stasera mi collegherò con Catena De Luca e Sara Cunial e risponderanno alle domande, risponderanno probabilmente agli attacchi anche perché le persone non capiscono che la libertà significa unirsi e che solo l'unione può sconfiggere la negatività. Per quello poi stanno attaccando la famiglia, non c'è cosa di più unita di una famiglia, per quello stanno cercando di massacrare, stanno cercando di spaccarla, di dividerla. Prima mi collegherò con Marco Mazzoli, di 105, che è a Miami. Magari gli chiederò anche cosa sta succedendo in America per quanto riguarda l'eclisse, perché c'è questa eclisse di cui tutti hanno paura, di cui tutti parlano. E poi parleremo anche di altre cose con Marco, di quello che sta succedendo in America. Quindi ci vediamo questa sera a partire dalle ore 21 sulle mie pagine redroni.tv, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter che si chiama X e Instagram. Ti aspetto e mi collegherò appunto con Marco Mazzoli, poi Catena De Luca e Sara Cunial insieme. Sarà molto interessante e ricordati, ricordati, contrapporsi, non serve a niente. Giudicare non serve a niente. Se giudichi, sarai giudicato. Bisogna comprendere. Ok? Tra l'altro Catena De Luca mi dite una grande mano quando facevo un'operazione a Messina dove io non accettai di mostrare il Green Pass, che peraltro avevo, perché avevo fatto un viaggio in aereo. Tutto questo per pubblicizzare il museo di Messina dove c'erano due Caravaggio che nessuno sapeva. Ci vediamo questa sera da Cholfolks.